Siamo con Monsignore Andrea Bellanti, docente di Teologia Fondamentale, la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, per un bilancio dell'Anno della Fede, quest'anno speciale indetto da Papa Benedetto XVI e poi proseguito con Papa Francesco. Vogliamo ricordare intanto i presupposti, le motivazioni con cui è nato questo speciale Tempo per i Cattolici? Le motivazioni si ritrovano nella lettera apostolica con cui Benedetto XVI ha indetto l'Anno della Fede, la Porta Fidei, ma che erano già presenti nel suo Magistero, cioè un richiamo a non considerare la Fede come un presupposto ovvio e quindi anche la constatazione che anche in paesi di antica evangelizzazione, quale l'Europa e l'Italia in primis, la Fede è diventata ormai un patrimonio sconosciuto di più e che non dà in qualche modo consistenza alle scelte concrete quotidiane del popolo anche cristiano e quindi il desiderio di ridare un nuovo impulso alla Fede. Chiaramente è difficile e impossibile capire cosa quest'anno abbia, quali frutti abbia lasciato nelle singole persone, però forse si può dire che in quest'anno c'è stata l'opportunità quantomeno di far tornare il tema della Fede nella scena pubblica, quindi la Fede non come qualcosa che appartiene al passato, che appartiene solo alla sfera intima delle persone, ma qualcosa che può aiutare le persone di oggi a trovare un senso. Certo, un bilancio ancora è prematuro farlo, anche perché non abbiamo il termometro della Fede, ma certamente riporre a tema, soprattutto all'interno delle comunità cristiane, dove questo argomento sembrava in qualche modo già risolto, già consolidato, invece riporre a tema la questione fondamentale della vita cristiana che è la Fede, la Fede nei suoi contenuti centrali, la Fede in Gesù, la Fede nella presenza dello Spirito Santo, nel corpo ecclesiale, ecco sono tutti aspetti che è stato utile rimettere al centro e che hanno anche direi favorito un certo movimento all'interno delle persone, vedi i pellegrinaggi, iniziative di preghiera. Ecco, sono stati tanti gli eventi che hanno segnato quest'anno, non solo appunto i grandi eventi internazionali, nei giorni scorsi il pellegrinaggio dei catechisti, quello delle famiglie, a Roma, tante diocesi, tante parrocchie sono tornate sulla tomba di Pietro a rinnovare la loro fede, a riscoprire le radici della loro fede, tanti per esempio hanno fatto pellegrinaggi nelle cattedrali della propria diocese o in altri luoghi. Ecco, ritrovare secondo me il senso sia di una unità nella Chiesa che poi per noi è fondata sul successore di Pietro, quindi il Papa, quindi poter andare a Roma e ritornare sulla tomba degli Apostoli è un gesto di memoria fondamentale. E anche nelle singole diocesi stringersi intorno al vescovo e quindi alla cattedrale costituisce un richiamo appunto all'esperienza della Chiesa come unità e anche direi come legame, sì, con dei testimoni concreti da seguire. In fondo la fede cristiana, come ci ha richiamato Benedetto XVI, anche Francesco, non è qualcosa che uno vive da sé, individualmente e senza riferimenti, ma invece è una tradizione che ci giunge in una storia e a questa storia la fede è legata. Tra l'altro a Firenze è stato anche un anno per riscoprire quell'orizzonte di fede al cui interno nasce l'arte, gran parte dell'arte fiorentina, ma questo vale un po' per tutte le città toscane, ecco, un anno che ci ha aiutato forse a capire che quando ammiriamo una Chiesa, un dipinto, un'opera d'arte, molto spesso dovremmo anche riuscire a capire appunto quell'orizzonte di fede in cui queste opere sono nate. Per Firenze questo è imprescindibile, ma anche più in generale per il nostro paese proprio perché siamo così ricchi di testimonianze di fede rese attraverso l'arte, la pittura, la scultura, l'architettura. Poter guardare a queste opere cogliendone le motivazioni e il senso profondo, essere quindi guidati a un recupero di una lettura non semplicemente estetica ma teologica e spirituale anche di queste opere d'arte, secondo me è un passaggio obbligato e credo che nelle diocesi, almeno nella nostra diocesi, qualcosa sia stato fatto e sia un percorso da continuare. Ecco, hai citato la Porta Fidei come documento di apertura di quest'anno della fede, poi è arrivata la Lumen Fidei, l'enciclica che un po' ne ha costituito l'ossatura in un certo senso, però ecco, nel frattempo questo è stato anche l'anno dei due papi, c'è stata la rinuncia di Benedetto XVI e poi l'elezione di Papa Francesco, un evento che da un lato forse ha rischiato un po' di oscurare l'attenzione sull'anno della fede, creando chiaramente un interesse per questo fatto epocale, dall'altro però forse è significativo che sia avvenuto proprio all'interno dell'anno della fede. Sono molto d'accordo, non è un episodio staccato dall'anno della fede, ma forse particolarmente nella testimonianza che ha reso Benedetto XVI costituisce uno dei momenti culminanti. In effetti un gesto come quello di Benedetto XVI si può comprendere solo nell'orizzonte della fede, non è un gesto politico, non è un gesto di comodo, ma è proprio il passo, la decisione di un uomo che certo nella fede riconosce che il Signore lo sta chiamando ad altro e sta chiamando la Chiesa a un passo diverso e quindi questa umiltà e questa semplicità di Benedetto XVI che fa un passo indietro e che indica alla Chiesa altre strade mi sembra che sia uno dei vertici proprio di questo anno della fede. E poi forse questa collocazione all'interno dell'anno della fede ci aiuta anche a vedere che al di là di uno stile pastorale, chiaramente molto diverso, che tutti vediamo ormai nella cronaca quotidiana, però il fondamento della fede rimane lo stesso. Sì, anche queste contrapposizioni che talvolta si leggono, si sentono affermare fra il Papa della dottrina rigido e il Papa invece dell'apertura, del rinnovamento, di fatto sono appunto letture totalmente infondate. La lumen fidei sappiamo che Papa Francesco stesso la accoglie dalle mani di Benedetto. Quindi è un po' il segno della continuità. Assolutamente, se uno legge l'enciclica vede l'opera del Papa precedente, così come vede anche che Papa Francesco l'ha arricchita di alcuni temi che sono a lui familiari, ma più volte anche Papa Francesco ha mostrato e ha rinnovato la sua gratitudine e anche il suo debito verso Papa Benedetto. La fantasia dello Spirito ci ha voluto far vedere questo passaggio, ma è un passaggio appunto nel segno della continuità e anche del rinnovamento, come di fatto tutta la vita della Chiesa ha espresso. Poi c'è stato anche il sinodo di Vescovi sulla nuova evangelizzazione, anche questo come momento forte di riflessione all'interno di questo anno della fede sulla comunicazione della fede. Fra l'altro appunto in questo abbiamo avuto la grazia di avere il nostro Vescovo che ha partecipato al sinodo e ci ha testimoniato anche la ricchezza di culture, di modi di espressione diverse anche della medesima fede, sempre appunto nel segno dell'unità. Attendiamo ora il documento conclusivo di Papa Francesco, ma credo che riprenderà un po' anche i contenuti che lui ha espresso recentemente al Consiglio per la nuova evangelizzazione, cioè il valore di una testimonianza credibile, una apertura agli altri, quindi uscire, uscire verso le periferie esistenziali e comunque la centralità su Cristo che è il punto essenziale della nostra fede. Quindi questo insomma è quello che ci lascia. Io credo che siamo in una stagione bella, anche se drammatica per certi versi e impegnativa, però i frutti dello spirito credo che si possono ben rintracciare nell'esperienza di tanta gente e della Chiesa come popolo di Dio. Grazie a Monsignor Andrea Bellanti. Grazie a tutti.